Musica Casino Perla di Nova Gorizza, siamo nella meravigliosa Poker Room che sarà a teatro dal 31 luglio al 2 agosto della Juego Cup. Abbiamo il piacere di parlarne con il capitano del team Juego, Fabio Scepi. Appuntamento irrinunciabile per chi ama il poker. Hai detto giusto, un appuntamento a Juego Cup quest'anno si rilancia dal 31 luglio come dicevi te fino al 2 agosto. Il team Juego è composto dal sottoscritto, da Enrico Mosca che è molto conosciuto e da Marco Fabbrini. Vi aspettiamo sicuramente per una delle tappe più importanti quest'anno qui al Perla. Organizzazione affidata a Poker Union, rappresentata in questa sede da Anthony Angeloni, un gemellaggio che si sta sviluppando sempre di più. Sì, è un gemellaggio che ormai si è consolidato. Noi abbiamo sposato e abbracciato il marchio Juego. È un onore dire che siamo gli organizzatori di questa Juego Cup. Si partirà subito forte. Noi ci presentiamo con questo garantito da 50.000 euro per un buy-in da 250 euro. Siamo stati molto attenti a guardare anche il costo del pacchetto, camera, hotel e tutto. Con 300 euro riusciamo a regalare la possibilità di partecipare al mini-event e dormire una notte qui al Perla che si sta bene. Juego è una grande azienda ed è un team importante. Mentre noi chiacchieriamo stiamo vivendo un torneo nel quale Juego è addirittura in ottima posizione in classifica per concorrere a una classifica finale importante che regala una cifra importante. Siamo quarti, comunque ha detto bene, Juego è un marchio importante che appartiene a ITA, ricordiamolo, International Tobacco Agency e quindi questo marchio ha un suo valore soprattutto per quanto riguarda il Texas Holder. Quindi un valore importante perché non solo parliamo dell'azienda e tutto ciò che vogliamo ma a lato pratico c'è una squadra dietro con degli ottimi giocatori e chi vuole venire qua vede grandi prodotti ma vede grande poker. Vede grande poker si confronta sicuramente con un field di giocatori importanti e voglio dire con un'organizzazione ben modulata. Quindi la massima attenzione per il giocatore perché si sa oggi come oggi i budget che una volta erano considerati low adesso sono medium. Assolutamente, hai detto la parola giusta. Oggi bisogna stare attenti anche a offrire un grande prodotto con un prezzo contenuto. Siamo in un periodo importante del calendario, siamo a inizio del mese d'agosto dove molti vanno in ferie e molti iniziano appunto a rilassarsi un po' e credo che sfruttare quei primi giorni di riposo per venirsi a giocare un torneo di poker brandizzato Juego Cup che è un marchio che è da tanti anni nel circuito con la nostra forza organizzativa di Poker Union. Speriamo e sono convinto che venga fuori un ottimo risultato. Non mi rimane altro che dare l'appuntamento per la Juego Cup dal 31 luglio al 2 agosto al Casino Perla di Nova Goriza perché può essere un'occasione per gustare una meravigliosa vacanza e se come ha detto Anthony è un preludio alle vacanze, beh magari partirete con tanti soldi in più. Grazie a Juego.